Ragazzi bentornati, io sono Dacone e questo è il 38esimo episodio della mia serie su Minecraft. Ragazzuoli, come state? Spero bene. Oggi andiamo a fare una cosa molto importante per la nostra struttura e anche per il nostro proseguimento su quest'isola, dato che effettivamente abbiamo un po' di cose da fare. Oggi andremo in miniera. Andremo in miniera, abbiamo la shulker pronta qui, abbiamo un bel piccolo ineterite potenziato al massimo. Insomma, siamo pronti per raccogliere i materiali che ci servono. L'unica cosa che dobbiamo fare è prendere un po' di cibo. Ecco qua un velo stack di carote e siamo subito pronti a partire. Direi di andare nell'entroterra per vedere effettivamente qualche caverna un po' più interessante. Sotto l'isola abbiamo già esplorato un pochettino, quindi vorrei vedere qualcosa di nuovo insomma. Potrei aver trovato qualcosa di interessante? Potrei. Ok, è relativamente vicino a casa ma è davvero impressionante. Sì, sì. Non sembra proseguire, però diamogli una possibilità. Oh, del lapis. Non male, non male. Il lapis ci serve. Forse c'è qualcosa di qua, qualcosa di un po' più interessante. Vabbè, stiamo trovando un bel po' di ferro, perché non è male. Anche perché attualmente la farm è troppo lontana per stare attiva, quindi anche quello è un problema da risolvere. Altro lapis, altro oro. In verità non altro, è la prima volta che lo trovo. Redstone, che ci serve. Ce ne serve davvero un sacco. Allora, purtroppo qui non c'è assolutamente niente. Io direi di uscire, di esplorare altre aree. Una caverna interessante, mi sa. Oh, quanto si scende qui? Ok, mi sa che stiamo scendendo in un posto brutto. Wow, che entrata particolare per una caverna. C'è del diamante. Non siamo qui per questo, ma... Oh, 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 oh. Abbiamo trovato quello che stavo cercando. In una mineshaft, oltretutto. Diamanti. Altri diamanti. Ed eccolo qui. Un geode. Iniziamo a sfondare tutto e raccogliere. Il piccone potenziato al massimo è qualcosa di indescrivibile. Ok, un po' problematico. Ho spaccato un po' tutto. Prendiamo quello che c'è qui per terra. A me interessano poco, davvero poco, questi blocchi diametista. Perché attualmente non so come utilizzarli. Ovvio non li butto via, però... Non è che tento di prenderli neanche. Abbiamo preso tre stack qualcosina di calcite. Non era un geode completo, per così dire. Però sicuramente sono utili al loro scopo questi stack. Speriamo di trovare altri geode. Geode. Allora direi che siamo pieni. Prenderei la shulker e la iniziere ad utilizzare per... Un po' tutto, diciamo. E già che sono qui, mi raccolgo anche un po' di diuride. Perché no? Ok, non voglio stare qui a prenderne stack su stack. Quindi usiamo quella che abbiamo preso. Ci riprendiamo la shulker. E nel caso cerchiamo di ritornare su. Perché... E' molto complicato farlo. Uuuuh. Una mela d'oro. Non è male. Anche dei semi di melone. Devo dire, non è affatto male. Probabilmente sarebbe stata meglio una Nentag. E' incredibile che in tutta questa enorme vastità... Non ci sia un altro geode. A. A. Diamante. Ok. Potrei provare a salire con l'elytra o andare dall'altro lato. Proviamo. Uuuuh. Peschiata? Peschiata. Tanto? Tantissimo. Ok. Vediamo se riusciamo ad uscire. Ed eccoci fuori. Ok. Purtroppo niente di impressionante. Abbiamo trovato il geode che volevo trovare. Purtroppo c'è da dire che volevo trovarne di più. Non ci siamo ovviamente riusciti. Pazienza. Però abbiamo ottenuto tanti altri materiali. Devo dire, niente niente male. Ora direi di tornare. Dovremmo essere vicini a casa. Ed ecco qui. O meglio, la vecchia base, non a casa. Ora non ci resta che tornare alla nostra vera base. Ed eccoci. Si dorme. Ok, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo ottenuto un bel po' di materiali utili. Un sacco di lapis. Un sacco di ferro. Davvero moltissimo ferro. Ho perso 20 anni di vita. 20 anni di vita ho perso. Ok. Davvero 20 anni di vita. Questo posto deve assolutamente essere chiuso e illuminato. E ci manca la shulker. Vediamo cosa abbiamo qui. Ottimi materiali. Ottimi materiali. Mi servono altre due casse. Se continuiamo così senza fare un deposito, finirò là in fondo. Guardate quante casse ci sono. Bene. Abbiamo ottenuto i materiali necessari per continuare la costruzione della base. Ragazzi vi ringrazio per la visione. Iscrivetevi al canale per altri video. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.